Niles, grazie ad aver preso l'acqua in bottiglie di vetro invece che di plastica al supermercato. La plastica è più leggera, ma non importa, voglio provare l'emozione dell'ernia. Non mangi con noi, Maggie? Oh, no, perché mentre mangiate tranquillamente, centinaia di ettari di foresta pluviale vengono distrutti. E vai a mangiare il tuo cornetto nella biosfera? Tieniti, Maggie. Ciao, ciao. Oh, sì, sì, prendi qualcosa? Grazie, ce n'è abbastanza? No. Niles... Non sa cosa penso del fatto che la lasci mangiare in casa. Che cosa hai detto? Domandavo che cosa desidera mangiare. Bacon, salsicce, ossa tritate... Quanto mi piace far colazione insieme a voi come fossi parte della famiglia. Buongiorno, Stacy. Buongiorno, Stacy. Gracie. Grazie. Brighton. Allora, bambini, che novità? Francesca aspetta un bambino. Cosa? E chi è il padre? Ma signor Sheffield, naturalmente. Francesca, cos'è questa storia che lei aspetta un bambino? Un bambino, io? Ma questo è impossibile. Beh, insomma, no, non è impossibile. Oh, sì, è impossibile. Francesca e signor Sheffield, sono due cricevi. Oh, mi pareva di aver dimenticato qualcosa. Per piacere, niente animali nella stanza da pranzo. Ti aspetterò in ufficio. No. Grazie a tutti.